Durante queste feste di Natale sono state davanti al presepe perché lì la tenerezza di Dio ci parla, desidera infatti muovere i nostri cuori. È l'esortazione di Papa Francesco ricevendo i donatori del presepio dell'albero di Natale di Piazza San Pietro. Quest'anno l'albero è stato donato dalla Baviera, mentre il presepe è stato allestito dalla provincia autonoma e dall'Arcidiocesi di Trento. Gli addobbi sono opera della fondazione Lentun che ha permesso a decine di bambini, tra cui anche piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma, di creare le decorazioni secondo i propri desideri. A tutti loro si è rivolto il pontefice. Ricordate bene questo voi, bambini e ragazzi, il Signore non si impone mai per la forza. per salvarci non ha cambiato la storia compiendo un miracolo grandioso. È invece venuto con tutta semplicità, umiltà, mitezza. Dio non ama le imponenti rivoluzioni dei potenti della storia e non utilizza la bacchetta magica per cambiare le situazioni. Si fa invece piccolo, si fa bambino, per attirarci con amore, per toccare i nostri cuori con la sua bontà umile, per scuotere con la sua povertà quanto si affannano ad accumulare i falsi tesori di questo mondo. Queste, ha aggiunto il Papa, erano anche le intenzioni di San Francesco quando inventò il presepe facendo memoria della nascita di Gesù a Betlemme. Dei suoi disagi ha ricordato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato. Una scena spiegato fatta di semplicità, povertà e umiltà in cui ben si inserisce una figura, presente pure nel presepe di Piazza San Pietro, che coglie subito il mistero del Natale. È quel personaggio che compie un'opera di bene chinandosi per porgere aiuto ad un anziano. Egli non soltanto guarda Dio, ma anche lo imita perché come Dio si china con misericordia verso chi ha bisogno. Il presepe e l'albero, illuminati per la prima volta all'imbrunire di un sereno pomeriggio di dicembre nel pieno dell'anno santo della misericordia, hanno poi accompagnato i fedeli all'Angelus del Papa, quando in Piazza San Pietro sono giunti anche i bambini del Centro Oratori Romani, per la tradizionale benedizione dei bambinelli e per la celebrazione del Giubileo dei Bambini degli Oratori. Cari bambini, sentite bene. Quando pregherete davanti al vostro presepe, ricordatevi anche di me come io mi ricordo di voi. Vi ringrazio e Buon Natale!